La spalla è un grosso veicolo di comunicazione e la prevenzione non è nient'altro, mi creda, che comunicazione. Ma perché fare prevenzione? Beh, fare prevenzione è fondamentale perché lei pensi che le malattie cardiovascolari sono la più importante causa di morte e di ospedalizzazione nel mondo, non solo in Italia, eccetera. Hanno questo terribile primato e noi potremmo prevenire le malattie cardiovascolari, le potremmo prevenire modificando gli stili di vita, riducendo la pressione arteriosa della popolazione e riducendo la colesterolemia. Perché sono questi due o tre fattori che creano poi l'atteroscasio coronarica che è la grande killer con l'infarto del biocardio, eccetera. Studi di genetica, studi di randomizzazione mendeliana ci fanno vedere che soggetti che hanno delle alterazioni genetiche per cui nascono con bassa pressione ce l'hanno bassa per tutta la vita, con basso colesterolo ce l'hanno bassa per tutta la vita, non hanno malattie cardiovascolari. E noi potremmo prevenire il 90% di queste malattie se riuscissimo a convincere una popolazione, questo è il punto, non tre o quattro individui, una popolazione a fare degli stili di vita più salutari. L'obiettivo prevenzione lo centriamo solo se sensibilizziamo la città. L'elemento fondamentale è la comunicazione e la cultura. Essendo l'Università di Ferrara coinvolta in prima persona, l'investimento sulla cultura e sull'informazione è fondamentale a partire dalle scuole, in tutte le scuole, in tutte le fasce d'età, con dei meccanismi comunicativi che devono coinvolgere i ragazzi fino dalle elementari. E poi una capacità pratica di eseguire quello che si dice. Parliamo di prevenzione cardiovascolare, noi insegniamo a misurarsi la carta di rischio autonomamente e tutte le volte che è necessario a misurarla direttamente presso il centro di prevenzione dell'Università di Ferrara in via Turchi di Bagni.